Le società petrolifere, titolari di piattaforma a largo delle coste italiane, devono pagare regolarmente i tributi ai comuni in cui ricadono. Il Governo ha ritirato infatti l'articolo 35 contenuto nella finanziaria che prevede l'esenzione dal pagamento dei tributi. Per i comuni è una boccata di ossigeno e per Scicli c'è la prospettiva di incassare una somma consistente. La richiesta avanzata dall'amministrazione ciclitana all'ENI, titolare della Vega, alla piattaforma petrolifera a largo delle coste Eble è di 53 milioni sulla base di un accertamento della Guardia di Finanza. I comuni, tra cui Scicli, avevano fatto fronte comune a Lanci, denunciando un'evidente penalizzazione. Il Governo ha recepito l'istanza grazie anche a un'azione di gruppi parlamentari e ha cancellato l'articolo 35, così come appare dalla pubblicazione nella gazzetta ufficiale pubblicata qualche giorno fa. Le società petrolifere, come peraltro sancito con una sentenza della Cassazione, sono pertanto tenute a pagare IMU, IC e Tari. Il sindaco Enzo Giannone ha dunque incaricato uno studio legale dell'Aquila per assistere l'ente nella trattativa che ora sarà avviata con Eni Edison per incamerare la somma, che verosimilmente si aggirerà intorno ai 20 milioni. Grazie.